beh direi proprio che pascal non si è nascosto qui fuori preso sono 22 a 0 per me vogliamo fare a chi arriva per prima 23 d'accordo beh cosa ti va di fare sì io non credo proprio mi diverto tanto stare qui e anche tu o insomma pascal non si sta così male qui dentro sono sette ore di cominciare prendo la scopa e spazzo di qua di là solo di sopra i panni da sistemare l'orologio però più veloce non va a fare un libro su e dalla mia libreria e aggiungo un bel libro nella galleria dalla chitarra ai ferri e la gastronomia aspetto quel che succederà faccio il gioco e dopo tutti c'era ed il teatro di re che non fa per me proprio sulla ceramica e con la cera poi lo sforzo di qualche schizzo sa cosa che hai visto prendo un libro o due da quella libreria e viaggio ancora qua con la mia fantasia e poi mi spazzolo con forza di energia ma sono sempre rinchiusa qua e allora aspetto, 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 aspetto quel che succederà ma domani c'è quel che amo di più quella scia di luci che ti porta adesso che cosa sia ancora non so so che è nel cuore e che presto la vedrò